benvenuti alla cucina del gatto oggi vedremo come realizzare i gamberoni col daikon una radice asiatica simile ad una grossa carota che ha moltissime proprietà tra cui quella di bruciare i grassi e combattere la cellulite se poi aggiungiamo che è anche squisito ma vediamo gli ingredienti 10 gamberoni un daikon una cipolla uno spicchio d'aglio zenzero fresco aceto bianco salsa di soia sale pepe laviamo nell'acqua i gamberi e facendo attenzione con l'aiuto di una forbice tagliamogli la testa e sfiliamo il filetto nero mettiamo in una ciotola le code dei gamberi e lasciamole marinare condendole con sale pepe aceto bianco mescoliamo e lasciamo riposare per almeno 15 minuti nel frattempo peliamo il daikon togliamogli le punte e tagliamola a metà facciamo delle fette spesse circa un centimetro e mettiamole in un tegame ora prepariamo un brodetto con le teste dei gamberi una padella con dell'olio facciamo soffriggere a fuoco vivace le teste nel frattempo tagliamo a fettine sottili una cipolla e l'aglio e grossolanamente lo zenzero aggiungiamo il trito alle teste lasciamo soffriggere ancora per un paio di minuti col coperchio dopodichè aggiungiamo una tazza di acqua e lasciamo cuocere ancora per cinque minuti sempre incoperchiato disponiamo nel tegame le gode di gambero posizionandole l'uno accanto all'altra e aggiungiamo il brodo filtrato condiamo con il sale il pepe la salsa di soglia e lasciamo cuocere incoperchiato a fuoco lento per otto minuti questo piatto è spettacolare il profumo riempirà tutta la casa impiattiamo mettendo su un piatto i gamberi con accanto i pezzi di daikon un po di sughetto e serviamo il tutto ben caldo ovviamente con una buona bottiglia di vino se la ricetta ti è piaciuta clicca su mi piace e iscriviti al canale alle prossime ricette del gatto ciao